Tutto quello che puoi fare sono degli aggiustamenti marginali, tipo efficienza, cose, e qui che dicono il 5% della spesa è inutile, facciamolo, Cottarelli doveva fare questo, Giavazzi doveva fare questo e facciamolo, però da qui a smontare la spesa pubblica che è la base del consenso mi sembra politicamente impossibile. Diciamo che il lato giusto di prendere questo tipo di problemi è l'altro, quello che citavi tu prima, è quello dello sviluppo economico e della crescita. Si tratta di spendere efficientemente e far crescere l'economia, questa è la vera risposta, non è quello di dire brutta la spesa pubblica così, solo che ribadisco, prova a farne un partito. Sì, è chiaro che lì c'è il problema di dire come faccio a far crescere le imprese in un paese dove l'idea della botteghina è… Eh così, sì sì, infatti le nano imprese in Italia sono il doppio delle nano imprese francesi e tedesche, se tu vai avanti a calcolare le cose la produttività ovviamente è nulla, quindi pagano salari schifosi che pagano imposti inesistenti e versamenti in Ipsing altrettanto inesistenti, quindi tu hai una spesa sociale maggiore, per colpa delle mancate economie di scala delle nano imprese e così via andando, è lì il problema, non è il problema di promettere 10 mila Euro di pensione, perché queste pensioni non possono venire fuori, fin tanto che la maggioranza degli italiani lavora in imprese che hanno basse economie di scala. Ma se tu provi a dirlo, dicono ragioniere, servo dei poteri forti, servo delle multinazionali, la prego.